Siamo appena tornate in albergo, purtroppo oggi la gara non è andata bene, siamo arrivate ottave e è brutto condividere con voi le gare che vanno male, però purtroppo non sempre le gare possono andare bene quindi oggi condividerò con voi una sconfitta. Siamo arrivate qua un po' acciaccate, gli allenamenti non erano andati nel migliore dei modi però abbiamo cercato di tirarci su, ci abbiamo provato perché nell'eliminatoria eravamo arrivate quinte e poi in finale niente, le altre hanno tuffato molto bene e noi un po' meno. Peccato perché bastava solo un punto in più e scalavamo la classifica di due posizioni. Domani si riposa e poi si ricomincia a lavorare perché abbiamo l'appuntamento importante degli europei di Berlino e lì dobbiamo essere preparate e poi si ricomincia a lavorare forte e cercare di arrivare nei migliori dei modi ad agosto per gli europei. Niente, ciao a tutti, un bacio!